Ha chiuso i battenti il centro vaccinale pesarese Monaldi in zona Celletta. Il centro socioculturale di Via del Cinema aveva cominciato a somministrare i vaccini anticovidi il 20 febbraio e in serata ha effettuato l'ultima iniezione. I vaccini riprenderanno lunedì 29 marzo nell'area dell'ex Ristò all'interno della galleria del Rossini Center dove fra domani e domenica si completerà il trasloco per poi dare il via al nuovo punto vaccinale della Torraccia che dovrebbe raddoppiare le inoculazioni rispetto alle attuali 7-800 servendo i cittadini di Pesaro, Vallefoglia, Gradara, Tavuglia, Gabice e Monbaroccio. La novità è che a Ristò non si vaccineranno solo gli over 80 che verranno completati entro aprile ma la regione ha stilato un cronoprogramma basato su 13 prossime categorie da vaccinare. Da lunedì 29 marzo si potranno infatti prenotare le persone estremamente vulnerabili che non risultano seguite in struttura ospedaliere regionale e che dunque non vengono convocate in automatico. La piattaforma web per prenotarsi resta quella confermata ed è online anche la sezione del sito della Regione Marche dedicata ai vaccini in cui verranno aggiornate tutte le informazioni. Quella del 29 marzo ad oggi è però l'unica nuova data fissata. Dopodiché toccherà ad altre categorie per le quali non è stata ufficializzata una data ma è stato indicato che verranno vaccinate ad aprile. I disabili gravi seguiti da strutture residenziali pubbliche e private, i disabili gravi non ricoverati che si rivolgeranno ai loro medici di base e poi entro aprile toccherà ai genitori di minori estremamente vulnerabili, ai pazienti fragili e ai loro familiari assistenti. Questa è la sequenza che però non ha ancora date ufficiali. Lo stesso dicasi per la fascia di popolazione fra i 70 e 79 anni per i quali è stato anticipato che cominceranno prenotazioni e vaccini entro il mese di aprile. La Regione ha anticipato che le persone fra i 60 e 69 anni verranno invece vaccinate a giugno. Per quelle fra i 16 e 59 anni bisognerà aspettare luglio. Intanto a breve anche gli infermieri dovrebbero essere coinvolti per velocizzare le vaccinazioni come previsto dalla mozione del consigliere regionale Andrea Biancani approvata all'unanimità. Entro qualche settimana dovrebbero arrivare un numero importante di dosi che dovrebbero consentirci appunto di partire. Quindi saranno necessari sicuramente più punti dove è possibile fare il vaccino. La Regione Marche ha anche già annunciato di voler ampliare i vaccini, la possibilità di fare i vaccini anche aperto alle varie categorie, nelle imprese e quant'altro. Io ho proposto, facendo una mozione, di fare in modo che gli infermieri possano come dire sganciarsi da quello che è un rapporto di lavoro esclusivo che hanno ad esempio con il Servizio Sanitario Nazionale che gli dovrebbe consentire di poter lavorare fuori orario attraverso sulla loro attività, la loro prestazione professionale, anche perché hanno dimostrato in questi anni di avere veramente un grandissimo livello dal punto di vista professionale, ma è importante trovare una soluzione per poterli coinvolgere fuori dal proprio orario di lavoro. Sarà importante appunto individuare le risorse perché ovviamente dovranno essere sicuramente pagati.